BELLA A TUTTI RAGAZI BELLA A TUTTI RAGAZI BELLA A TUTTI RAGAZI Guarda che roba Guarda! Tate marker! Oh è incredibile sto gioco Vabbè Vabbè che da tanto che non ci gioco però Cioè fino a sto punto non credo che sia possibile Possibile e immaginabile soprattutto Vabbè ovvio Cioè se cambrano dentro È anche difficile Riuscire anche solo A vederli Non ammira ragazzi Non ammira oggi Lasciamo stare Oggi ho già filato più colpi di quelli che ho sparato Che anche se è impossibile fa niente Ok Oh ma sai che Mi sembra quasi essere sempre host Però guardate Non è che do una brutta connessione oggi Non so O che mi hanno ampliato internet Oddio Non ci voglio credere Cioè vabbè Questa bestemmia doveva esserci per forza Quelli che giocano così Fanno andare fuori di testa Proprio in un attimo Davvero Se non capisco ancora perché C'è la gente Che giochi Con comando Maratona ninja Cazzo è passata L'era di maratona comando ninja Era passata due anni fa Eppure c'è ancora gente che si diverte Se così si può dire Ah è quanti qua dentro 15 Bene uno c'è Questo coglione c'è Perché lui il coglione non può mai mancare Lo devi sempre anche ferire Perché se no Non è divertente Questo è imprendibile Attenzione Mi sembra abbastanza imprendibile Quello Cazzo cazzo Però è bello Cioè sui doke a me piace troppo tanto È il mio preferito in assoluto A parte i problemi tecnici che ha Cioè tra tutti quelli Che giochano proprio male Quello lì col coltello Che cazzo sei Sì ma comunque sono os perché per prendere quello lì Il nostro Boh c'è certa gente È davvero vergognosa È anche primo Perché è fantastico Come sto gioco Premi quelli che usano lancia granate E il coltello C'è due armi Lancia granate è potentissimo Ma è illegale Praticamente C'è un altro Qua tutti con commando Boh è la lobby giusta Mi sa La lobby per farmi proprio incazzare Questo A star qua dentro Ci guadagno E basta Oddio Oddio Però con 5 coltello ci guadagno È così tanto Oddio Quello lo potevo prendere tranquillamente Comunque sto giocando bene Dai Cioè Sono partito malissimo E sto riprendendo Adesso non vabbia comunque davanti Sì ma adesso questo che usa il fucile a pompa Mi supera in un attimo Guarda Lo so già Che ho proprio l'idea Di giocare in modo Schillato Che È sbagliata Porca puttana Quello ci fai lì Ecco l'ho bene L'ho preso Predator Dai sto andando benissimo Mi sta piacendo un voto Questa partita Guarda questo Madonna è il peggiore Questo qui è il peggior giocatore Di colobiti Dai Doppia doppia Singola Ho provato l'echo Ne hanno anche ucciso Vabbè Vabbè Culo Vabbè Cioè Questo ti sta un po' distante Ti corre un po' in consulto Stort Almeno diventa difficile da prendere E poi ti distruggi In un attimo Con una coltellata Da un chilometro e mezzo E il joystick che non corre Come al solito Ogni live È sempre così Non corre joystick Bravo Ecco quello imprendibile Ok Non è più imprendibile Ma comunque oggi sto stando Cioè Per me È una cosa allucinante Stare su questo gioco Mi sa che ci resta anche tutto il giorno Se ho sto Io praticamente Non ho stato Sono collegati Da un casino di tempo Peccato Peccato No no Cosa sto dicendo Vabbè Ho tirato Sbagliato la granata Sapevo già di essermi Autostannato Ma qua niente Quello l'avevo preso però Questo l'ho preso Questo l'ho preso Eh certo Non posso finire una partita Una volta in modo decente No Uno Oh cazzo E vince Attenzione Cioè vabbè 30-14 Da host Noi fantastiche Cioè spero che vi sia piaciuto questo commentary A me è piaciuto un casino Giocare su questo gioco E penso che oggi ci resterò Perché Oggi sto dando le 4 tacche Solo a me In questo momento Ma comunque Mi sa che non è la prima partita Che sto stando Perché anche prima Avevo C'avevo una connessione Proprio assurda Quindi vabbè Spero che il video vi sia piaciuto Io vi ringrazio sempre Tutti i mi piaci Tutti i commenti Anche quando sono stato assente Avete commentato in tantissimi Avete messo mi piace in tantissimi Quasi 200 mi piace Io non me li aspettavo Comunque vabbè Spero che MW2 vi piaccia Io vorrei essere in questa lobby Probabilmente Perché mi piace troppo giocare MW2 Forse no Vabbè Comunque vabbè Ci sentiamo al prossimo video Spero di riuscire a portare qualcosa di diverso Da uno snipe in live Magari Boh Cosa potrebbe esserci Un commentary A caso Vietemi che gioco volete vedere Se volete vedere Code 4 MW2 Code 4 meglio di no Perché Code 4 Non ho più niente Mentre MW2 C'è ancora due partite Su MW3 Le faccio tranquillamente Le partite E su Black Ops 2 Vabbè Lasciamo perdere Ghost Ho una partita Ma preferisco non metterla Perché non mi piace neanche a me Sono 64 Ci sono i 30 morti Vabbè Non mi dilungo troppo Anche se l'ho già fatto Vi ringrazio Come al solito E vi saluto Bella Ciao Ciao